Saranno celebrati domani alle 10.30 in Cattedrale a Palermo i funerali di padre Sergio Natoli. Fino a stasera la Salma è nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in Piazza Marina, di cui era rettore. Qui c'è un via vai di gente di tutte le etnie, perché lui è stato il padre di tutti i poveri, punto di riferimento di tantissimi migranti che nella comunità di Don Sergio hanno trovato la pace. Conosciuto infatti da tutti a Palermo per essere stato sempre al fianco dei migranti nel quartiere Ballarò. Era però originario di Patti, provincia di Messina. Ordinato presbitero nel 1978, ha collaborato al fianco del beato Don Pino Pugliesi. Nadescia prega davanti alla Salma, padre Sergio l'ha accolta nella sua comunità tantissimi anni fa. Sono molto importante per noi, una persona molto umile, molto umana, che aveva questa capacità veramente di ascoltarci e di piano piano risolvere nel suo piccolo i nostri problemi, problemi di ogni giorno che noi facciamo ogni giorno. Abbiamo dei problemi del lavoro, della vita, della vita quotidiana. E' riuscita a farci stare insieme, a mettere insieme, a coniugare tutte le comunità, tutte le diverse popolazioni. E' riuscita a fare questa.